Internet delle cose non è nient'altro che la internet che vediamo oggi che gradualmente viene collegata a cose intelligenti, cose che sono capaci di dare informazioni sull'ambiente circostante e soprattutto sono capaci di raccogliere comandi da coloro che stanno dall'altra parte e magari possono interagire con questi oggetti intelligenti. Un modo in cui io descrivo anche la internet delle cose è internet collegata al mondo fisico per permettere alle persone di governare e controllare il mondo fisico in maniera molto più efficace rispetto a quello che abbiamo fatto sino ad oggi. Perciò ci sono già tantissime applicazioni, una che è in corso di sviluppo ovunque è fatta assieme agli operatori del settore elettrico, i produttori di energia elettrica che stanno creando la smart grid, ovvero stanno equipaggiando le reti di distribuzione elettrica con tecnologie internet parallele alla rete di distribuzione elettrica per controllare la rete di distribuzione elettrica e prepararla all'immissione di nuove fonti energetiche rinnovabili che non saranno centralizzate ma saranno distribuite perché ogni abitazione, si spera ogni, sarà in grado di produrre la propria energia e vendere all'operatore della rete elettrica l'energia che avanza. Perciò questa è un'applicazione ma ce ne sono tantissime altre, c'è Barcellona che è una Cisco Connected City che sta equipaggiando tutta la città di copertura wifi e sta iniziando a offrire alcuni servizi al cittadino e mi piace ricordare sempre un servizio che utilizzano le forze dell'ordine di Barcellona che è la possibilità di equipaggiare le automobili della polizia con telecamere in alta definizione che riprendono i numeri di targa delle automobili che la macchina della polizia attraversa e grazie alla tecnologia Cisco di connettività trasmettere queste immagini a una sede centrale dove vengono analizzate i numeri di targa identificati e se ci sono delle sanzioni da far pagare al proprietario o l'automobile rubata viene immediatamente identificata.